Musica Ed eccoci al nostro telegiornale del mattino in diretta, dunque Giorgia Meloni è già in Puglia, in provincia di Brindisi, a Borgo Ignazia, a Fasano, poi a Ceglie Messapica, dunque una settimana per la Premier di Relax in Puglia. Vediamo il dettaglio nel servizio di Michele Iurlaro. Dopo di che? Devi mettere il ripieno. Mettere il ripieno, quanti ripieno? Eh? Questa è la cosa del più. Mangierà il suo amato panzerotto, esplorerà le ricette a base di gambero blu, soprattutto si godrà sua figlia Ginevra e l'affetto dei suoi familiari, colleghi e amici. La Premier Giorgia Meloni arriva a Ceglie Messapica, masseria a beneficio, piccolo resort incastonato tra gli ulivi secolari e il ridosso della strada provinciale, che collega Ceglie Messapica a Francavila Fontana. Il buon retiro della Premier non è certo una novità. La Meloni aveva scoperto la masseria già due anni fa, quando in beccata dal consigliere regionale indigeno Luigi Caroli si era innamorata del territorio e delle persone. Così come lo scorso anno, con in mezzo il G7 di Fasano, la Premier ha così scelto la Puglia e la provincia di Brindisi da oggi. E qui in vacanza con lei, anche l'ex compagno Gian Bruno, la sorella Arianna, il cognato e il ministro Lollo Brigida. Ma a masseria a beneficio sono attesi altri nomi, altri volti eccellenti, Fito e Gemmato, il sindaco di Ceglie, Angelo Palmisano e chissà chi altro. In una settimana un poco più di ferie e di relax tra gli ulivi secolari di quella Puglia che qualche estate fa fece innamorare Giorgia Meloni. E vediamo come hanno trattato i quotidiani questa notizia. C'è la presenza del Premier per l'ennesima volta in Puglia e nel Brindisino, vedete la gazzetta del mezzogiorno, politica d'agosto. Meloni relax in Puglia, c'è anche Gian Bruno. Ministri e parlamentari scelgono l'Italia per le vacanze. Poi il fascino del tacco, in Salento anche Bernini, Fito, Gemmato, Salvini e Fontana, presidente della Camera sul Gargano. Ma non solo, spiagge, i partiti intanto preparano le feste. Il quotidiano di Puglia, vedete la politica, a pagina 5, Meloni relax blindato, weekend a Borgognazia, prima del ritorno a Ceglie. La Premier già da sabato nel resort a Sabelletri di Fasano, due mesi dopo il G7, prima di trasferirsi a Masseria Beneficio a Ceglie. Le vacanze con la figlia, Ginevra, senza dimenticare i temi caldi dell'autunno, ovvero manovra, riforme e Unione Europea. La fuga a Fasano dopo il G7, vediamo Giorgia Meloni e a Borgognazia. Da sabato una due giorni riservatissima trascorsa tra le mura del resort che ha ospitato il G7, prima di trasferirsi a Ceglie Messapica. Il soggiorno, vacanza breve, poi il rientro. La Premier con la figlia, Ginevra, e con la coppia composta dalla sorella Arianna e dal ministro dell'Agricoltura, Lollo Brigida, suo cognato. Meloni si tratterà in Puglia una settimana, forse dieci giorni. L'agenda, riforme, crisi e manovra, resta sul tavolo l'agenda di settembre, le riforme, la manovra economica, la crisi internazionale e poi la partita europea. Meloni indicherà a von der Leyen il ministro Raffaele Fitto come commissario. E poi qui vediamo due foto dei luoghi, delle vacanze di Giorgia Meloni. A sinistra a Borgognazia, durante il G7 svoltosi lo scorso giugno, sopra. Qui questa foto vedete a destra del quotidiano Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, che ospiterà per forse più di una settimana Giorgia Meloni. Adesso andiamo avanti perché c'è la cronaca. Le ultime ore sono state scandite da una immane tragedia che si è consumata a Cisternino, siamo in provincia di Brindisi, a causa di una terribile esplosione in un trullo. Una persona è rimasta gravemente ferita, un'altra è morta. Si tratta di un uomo di 55 anni, un ingegnere di Bari, re in vacanza, Antonio Nicola Salatino, ingegnere Edile Barese, una domenica dunque drammatica, quella vissuta ieri. In Puglia vediamo il servizio di Fabrizio Caglianiello, che è stato uno dei primi a giungere sul posto. Queste sono le immagini realizzate all'interno della villetta, poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Ci sono pezzi di mobili ovunque, infissi, finiti a diversi metri di distanza. Di quel trullo, rifugio estivo, per qualche giorno di relax di una coppia di Bari, è rimasto veramente poco. Lui, Nicola Salatino, di 55 anni, non ce l'ha fatta, è rimasto travolto dalle macerie. Il suo corpo è stato recuperato diverse ore dopo dai vigili del fuoco. Lei, 53 anni, si trovava in un'altra stanza dell'edificio, una parte colpita marginalmente dall'esplosione e stata soccorsa immediatamente trasportata in ospedale con ferite e ustioni su gran parte del corpo. Erano qui in vacanza a casa di amici, una coppia di amici storici, con cui sembrerebbe che abbiano addirittura studiato all'università. Quindi erano qui, appunto, per passare il fracosto. L'area attorno alla casa è stata sottoposta a sequestro, mentre gli inquirenti si concentrano sugli accertamenti tecnici necessari per determinare le circostanze esatte della tragedia. Pare che ci sia stata una deflagrazione dovuta a una perdita di gas e che questo ha comportato il cedimento di parte di una struttura, in parte a Trulli, in parte a Lamia. All'interno di questa, chiamiamolo, dependance dell'abitazione, anche se collegata, c'erano degli ospiti, dei proprietari, amici, due persone per l'esattezza. Una tragedia per cui faccio la mia avvicinanza di tutta la comunità di Cisternino, la famiglia per questo lutto. Sul posto anche i carabinieri, la polizia municipale e la protezione civile. In zona si sono riversati anche tantissimi curiosi, anche se l'area è stata resa off limits dalle forze dell'ordine. Questa è una zona particolarmente popolata nel periodo estivo. La deflagrazione è stata molto forte e ha svegliato praticamente tutti i residenti della Contrada. E restano tuttora stazionari le condizioni della donna ricoverata all'ospedale Perrino di Brindisi per le gravi ustioni riportate in seguito all'esplosione del Trullo a Cisternino. Vediamo come hanno raccontato questa tragedia i quotidiani. La Gazzetta del Mezzogiorno titola così. Esplode un Trullo, morto un barese, la moglie gravissima in ospedale, la procura di Brindisi indaga per omicidio colposo. La dinamica, il boato, dopo le 8 di ieri mattina, probabilmente a causa di una fuga di gas, l'uomo avrebbe festeggiato il suo compleanno domani. Il sindaco di Cisternino Perrini, che abbiamo appena sentito, al microfono di Fabrizio Caglianiello, avevamo sperato che si potesse ritrovare vivo sul posto anche il figlio ed un fratello della vittima, increduli e disperati. E queste le immagini strazianti di come l'esplosione ha ridotto il Trullo e crollato. Anche il solaio durissimo, il lavoro dei vigili del fuoco che sono giunti prontamente sul posto insieme con la protezione civile incontrata Caranna di Cisternino, nello cuore della Valle d'Itria. Andiamo a vedere adesso l'edicola, il boato e poi il fumo. Crolla un Trullo, muore ingegnere. La tragedia. Il barese Nico Salatino, 55 anni, ha perso la vita mentre era ospite di una coppia di amici, la moglie è 53enne, Anna Petruzzelli è ricoverata con gravi ustioni sul luogo figlio e fratello della vittima che avrebbe festeggiato 56 anni proprio domani. E poi c'è tutto il racconto, vedete i testimoni, abbiamo sperato che si salvasse tra i residenti nelle vicinanze incontrate a Caranna, in tanti hanno aspettato che i soccorritori lo tirassero fuori, ma purtroppo quando lo hanno trovato sotto le macerie era già privo di vita. Eccolo, Nico Salatino, l'ingegnere buono e tifoso del Bari, mi ha sempre sostenuto, ricordo amico, fraterno e collega, l'ex presidente degli ingegneri Roberto Mascio Pinto racconta il loro legame. Avrebbe festeggiato i suoi 56 anni nel Trullo dove ha perso la vita, scrive l'edicola del Sud. Il sindaco Perrini, vedete una tragedia immane per la comunità e i parenti. Vediamo adesso il quotidiano, sempre su questo argomento, il dramma, esplosione in un Trullo, muore un turista 55 anni, la moglie lotta per la vita, la tragedia a Cisternino in Valle d'Itria, la deflagrazione ha fatto crollare la struttura, travolto e ucciso l'ingegnere Edile di Bari in vacanza con la coniuge e una coppia di amici, aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La città, l'oasi di pace sconvolta dalla disperazione, il sindaco, un'intera comunità è sotto shock. Vedete ancora una volta le ruspe che hanno operato purtroppo a lungo nella mattinata di ieri per trovare il corpo del 55enne che purtroppo non ce l'ha fatta. Andiamo in Salento perché dobbiamo raccontarvi dell'ennesimo incidente stradale mortale che si verifica non solo nel Salento ma anche in tutta la regione Puglia. Un drammatico episodio sulla strada provinciale 206. Un uomo ha perso la vita nello scontro tra due auto. Da Lecce, Francesco Schiavara. E di un morto e due feriti il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella notte tra sabato e domenica in Salento. Ad essere coinvolte nel sinistro avvenuto alle 4.30 lungo la strada provinciale 206 che collega Ugento e Melissano sono state due auto, una Lancia Ypsilon Elefantino e una Fiat Panda. Da una prima ricostruzione sembra che la Lancia fosse ferma quando è sopraggiunta la Panda sulla quale viaggiavano due uomini originari di Presiccia Aquarica. Per uno dei due è stato necessario l'intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento del ferito presso l'ospedale Sacro Cuore di Gallipoli per accertamenti a causa dei forti dolori accusati al petto. Due erano anche le persone a bordo del secondo veicolo coinvolto una Lancia Ypsilon Elefantino. Si tratta di una coppia di 38 anni, anche loro originari di Presiccia Aquarica, le cui condizioni in seguito al sinistro hanno destato sin da subito preoccupazione. La ragazza, infatti, dopo le prime cure sul posto è stata trasportata direttamente presso l'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Per il ragazzo, invece, dopo un primo trasferimento presso il nosocomio di Casarano, ne è stato disposto un secondo presso il presidio del capoluogo Salentino a causa del grave trauma toracico riportato e delle ferite riscontrate per tutto il corpo. Dopo alcune ore dall'arrivo in ospedale, il 38enne è deceduto. La salma, intanto, è stata trasferita presso l'obitorio del Vito Fazzi a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oltre ai militari della radiomobile di Casarano erano presenti sul posto anche i colleghi della stazione di Melissano per la viabilità e i rilievi che saranno utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Ecco il quotidiano su questo episodio, scontro tra auto sulla provinciale morto 51enne grave una donna. Lo schianto si è verificato sulla Ugento-Melissano, ricoverato anche il conducente dell'altra avvertura. Adesso indagini in corso sulla dinamica dell'incidente. Nelle stesse ore a Otranto è avvenuto un altro sinistro e poi il quotidiano riporta anche la foto della vittima, Alessandro Carratta, 51enne di Ugento. Adesso ci occupiamo di un'altra vicenda, cambiamo argomento, mettiamo da parte la cronaca, perché a Bari è polemica tra i due candidati alla carica di sindaco della centrosinistra Leccese e La Forgia. Per il varo della giunta La Forgia fuori, ma intanto vedete questo titolo della Gazzetta del Mezzogiorno, comune il giorno della giunta, strappo tra La Forgia e Leccese, mai discusso di deleghe. Oggi si dovrebbero sapere i nomi dei nuovi assessori, ma già volano gli stracci tra il sindaco Vito Leccese e Michele La Forgia. E dunque a tal proposito vediamo questo servizio che ci parla delle vicende politico-amministrative nel capologo regionale. Tanto tuono che piove e stavolta il meteo del ferragosto non c'entra. Michele La Forgia rompe gli indugi. Se sarà anche la rottura dell'alleanza del centrosinistra barese alla vigilia del varo della giunta, si vedrà la distanza tra l'area che fa riferimento al sindaco Vito Leccese e quella che fa riferimento al penalista è sempre più larga e l'esecutivo è soltanto la punta dell'iceberg. La Forgia lo mette nero su bianco. Niente lavoro sul programma, niente condivisione sui primi atti di governo, tanto meno sull'ordinanza antibivacco, niente trattativa sulla giunta, niente discussione su deleghe e criteri, tanto meno sui nomi concordati altrove. E con altri scandisce. Tradotto, vuol dire il rischio che quel pezzo di schieramento separato al primo turno e poi fianco a fianco al secondo resti senza un rappresentante in squadra, non i Cinque Stelle, che pure sarebbero della partita, non i Spierucci, uscente in quota alla sinistra, sì, ma anche i Verdi e non diretta emanazione della Convenzione. A questo punto anche l'ipotesi della presidenza del Consiglio Comunale affidata alla Forgia non esiste più. Per ora non è un automatico passaggio all'opposizione, si attendono squadra e linee programmatiche spiegano eppure una reazione di Leccese e del resto della coalizione. I nodi della politica sull'edicola, Bari, strappo tra Leccese e La Forgia, il penalista non avrà posti in giunta. Poche ore dalla nomina del nuovo Consiglio Comunale, l'avvocato ufficializza la fine dell'accordo stretto prima del ballottaggio, tramonta anche l'ipotesi di affidare a lui la presidenza dell'Aula Dalfino, visto l'esplicito dissenso delle altre forze politiche. Dunque una situazione spinosa, quella che si sta verificando a Bari, proprio alla soglia di avvio dell'amministrazione di Vito Leccese, che rileva l'incarico, che come sapete è stato di Antonio De Caro per dieci anni. L'unità del primo turno è messa da parte, ma non passeremo all'opposizione, è quanto ha affermato Michele La Forgia in questo corsivo. Le interlocuzioni tra i due leader, ovvero La Forgia e Leccese, non sono mai veramente riprese dopo l'accordo al ballottaggio. Intanto vedete il ruolo in giunta, il disaccordo è sui contenuti, prima ancora che sulle nomine, dunque come specifica La Forgia nella nota. Sbaglia chi sostiene che non si è raggiunta l'intesa sulla composizione della giunta, ovvero sulle poltrone. Fare l'assessore è, o almeno dovrebbe essere, un impegno duro e gravoso nei confronti della collettività, non un comodo privilegio. Così La Forgia. Adesso andiamo sul sito di Antenna Sud per un'altra notizia che riguarda purtroppo la cronaca. Vedete Trani, malore durante la partita di Padel, muore un 47enne, stava giocando a Padel presso un centro sportivo di Trani in via Barletta, poi un malore improvviso e la tragedia, morto un uomo di 47 anni lasciando sotto shock l'intera comunità. Nel mentre della partita amatoriale il 47enne è stato colto da infarto e si è accasciato al suolo immediato il soccorso del servizio 118. E sempre sul sito di Antenna Sud troviamo un'altra notizia di cronaca, l'ennesimo incendio nel Tarantino che ha spaventato i cittadini nel pomeriggio di domenica. Taranto, vasto incendio nella zona di Buffoluto, vedete che enorme nube di fumo bianco e nero e denso che si è sollevata ed è stata visibile da tutta la città. Ancora un pomeriggio di durissimo lavoro per i vigili del fuoco a Taranto, dalle 14.30 di domenica 11 agosto impegnati a spegnere un vasto incendio che ha interessato alcuni ettari di vegetazione nei pressi della zona Buffoluto dove sorgono i cantieri navali. Tre squadre del comando provinciale hanno operato per circa 4 ore per avere ragione delle fiamme che hanno lambito le strutture e gli edifici dei cantieri navali. Per fortuna non si registrano feriti e qui abbiamo anche un'altra foto dell'incendio imponente che si è verificato a Taranto. Andiamo in provincia di Lecce a Casarano, è stata rubata la tenda dei diritti, simbolo della mobilitazione nata a difesa dell'ospedale Ferrari. E' sparita la tenda dei diritti, il simbolo della mobilitazione a difesa dell'ospedale Francesco Ferrari e contro il depotenziamento del nosocomio di Casarano. Ad annunciare quanto accaduto è stato il consigliere comunale Marco Mastroleo, promotore del movimento di protesta che è partito proprio da Casarano nei mesi scorsi. Con il tempo ha coinvolto anche numerosi volontari e cittadini provenienti dai paesi limitrofi. L'unica cosa che in questo momento si può dire è che la tenda non c'è. Da mercoledì 7, più o meno ho cercato in questi giorni, abbiamo cercato con tutti gli altri attivisti di capire se ci fosse in atto un grande misunderstanding, qualcosa del genere. Però stamattina effettivamente dopo aver vagliato diverse opzioni, penso che comunque stava portata via e commettiamolo così. Al di là dell'increscioso episodio continua l'attività del comitato, la tenda dei diritti come ha rassicurato lo stesso consigliere Mastroleo. Noi stiamo continuando a vederci il martedì e il giovedì, proprio per continuare quello che è lo spirito della tenda, perché qual è lo spirito principale? È tenere viva l'attenzione su due punti principali, il diritto alla salute, che questo prescinde dal discorso del Ferrari, e tutte le criticità soprattutto per il ripotenziamento del Ferrari. Giovedì 8 agosto intanto ha avuto luogo a Casarano un consiglio comunale monotematico riguardante proprio la situazione del presidio ospedaliero della città. Il consiglio è stato convocato per deliberare su due argomenti principali. Uno che è la commissione speciale sulla sanità e l'ospedale Ferrari, dove questa commissione sarà una commissione istituzionale dove saranno rappresentati i consiglieri di maggioranza e di minoranza. E il secondo punto è che si creerà una sorta di assemblea che è aperta e allargata anche agli altri comuni. Andiamo sul quotidiano di Puglia, il capocronaca di Taranto accende i riflettori sul porto ionico, risorsa mare, vedete il titolo ritorno a settembre porto, ritorno a settembre il collegamento dal Pireo, il servizio di Domenico Palmiotti, il porto greco e l'Hub della compagnia Cosco, la linea che muove da quello scalo è la Express, comune a più società di navigazione internazionali e che fa scalo in numerosi porti italiani. Non è una novità per Taranto dove ha fatto alcune toccate andandosi poi a riposizionare a Bari. Al terminal di Ilport attualmente c'è solo CMA, vedete dunque il servizio feeder del porto per il Pireo a quello di Taranto è dato in ritorno a settembre, dunque tornerà questo collegamento già il prossimo mese. Vedete lo zoom nel servizio e poi il sommario, leggiamo prima il sommario, oggi intanto la compagnia Turca incontrerà l'autorità portuale per affrontare il caso dei dragaggi e a proposito dei dragaggi, dopo lo stop questi dragaggi nel porto di Taranto si rafforza il rischio occupazione per i lavoratori ancora in carico all'agenzia interinale. La preoccupazione del segretario di Will Trasporti Taranto Carmelo Sasso, i dragaggi sono quegli interventi che vengono effettuati sui fondali marini per aumentare il cosiddetto pescaggio delle navi e intanto c'è stato lo stop nel porto di Taranto, tutto questo oltre a rallentare i traffici perché certe navi non possono arrivare perché andrebbero a toccare i fondali, ci sono anche problematiche di natura occupazionale, come ci spiega Leo Spalluto. Servono decisioni nette per il futuro del porto di Taranto e dei lavoratori che rischiano di non avere prospettive, ne è convinto Carmelo Sasso, segretario della Will Trasporti Ionica, dopo le notizie negative in attese sulla questione dragaggi, la vasca di colmata appena realizzata non reggerebbe secondo le prime verifiche, bisognerebbe rifarla con almeno 15 mesi di lavori e fondi che attualmente non ci sono e le prospettive di riassorbimento dei lavoratori portuali della Taranto Port Workers in a cassa fino a dicembre si allontanano drammaticamente, senza dragaggi, senza navi container più grandi, diventerebbe impossibile rilanciare lo scalo tarantino. E allora Sasso si chiede se quella dei dragaggi sia ancora la strada maestra da seguire o se sia necessario valutare altre ipotesi. Evergreen è andata via nel 2015 per i dragaggi non effettuati, l'attuale terminalista Ilport ha subordinato il completamento del piano occupazionale alla realizzazione dei lavori, non si può più perdere tempo. Credo che è la cosa più opportuna e noi lo richiederemo nelle prossime ore, credo unitariamente con i colleghi di CGL e CISL, sarà quello di riunire tutte le parti istituzionali, i portatori di interesse per cercare appunto di fare il punto di vista della situazione e capire se è ancora possibile, è positivo per il territorio attendere tutto il tempo e investire tutte le risorse che saranno necessarie per completare questo progetto. Diversamente bisognerà ripartire da quello che c'è, fare un ragionamento di quello che è utile al sviluppo del territorio dei lavoratori e del lavoro e tra virgolette assumersi la responsabilità di cambiare magari una direzione che è stata impressa tanti anni fa ma che evidentemente non ha prodotto altro che problemi e disoccupazione. Restiamo a Taranto e più o meno nella zona del Porto perché c'è una proposta per la zona dell'ex terminal bus del Porto Ionico. Questa proposta arriva da un consigliere comunale, Francesco Battista, che immagina questa zona come punto di informazione e ristoro per i croceristi. Ecco il suggerimento. Riqualificare la zona del vecchio terminal bus del Porto Mercantile creando un punto fisso di informazione per croceristi e turisti al posto dell'attuale sala d'attesa di Chima mobilità e ripristinando il manto stradale. Sono le proposte del consigliere comunale della Lega, Francesco Battista, indirizzate al sindaco Melucci e all'intera giunta. Seguono i numerosi servizi dedicati dalla telegiornale di Antenna Sud ai problemi relativi all'accoglienza dei viaggiatori nei giorni di approdo delle crociere. Per Battista inoltre il terminal bus potrebbe essere ripristinato per le sole corse estraurbane, mantenendo nel nuovo sito di Parco Cimino il capolinea dei bus urbani, è dotato di ulteriori servizi per i turisti. È la prima parte che i croceristi vedono quando escono dal porto. Si potrebbe creare un punto di ascolto per pubblicizzare la nostra città, visto che anche nei pressi abbiamo due locali dell'Amat, uno dei quali potrebbe essere utilizzato come punto turistico per poter indirizzare i croceristi nelle nostre bellezze, come museo e tante altre bellezze che abbiamo nella nostra città. I turisti lamentano la mancanza di servizi, anche di attività commerciali o anche semplice risturo, quindi una ristrutturazione e una riqualificazione della zona potrebbe portare, oltre a riqualificare questa zona, anche un ritorno da punto di vista d'immagine. Anche il rifacimento del manto stradale, come si può vedere, chiaramente ci sono delle bughe che sono state chiuse con dell'asfalto in maniera non a regola d'arte. Andiamo a pagina 16 della Gazzetta del Mezzogiorno di oggi, parliamo di energia rinnovabile, il progetto del TG Energia Brindisi, parco eolico offshore sulla costa di Brindisi, ora è tutto da rifare, un'odissea di 11 anni, ricorsi, contro ricorsi e conflitti tra organi governativi, ora la decisione torna nelle mani del giudice ordinario. Velocemente leggiamo l'attacco al pezzo, la vicenda del progetto di TG Energia, emblematica della confusione che regna nel settore delle energie rinnovabili. A 11 anni dalla presentazione della distanza da parte di TG Energia, per realizzare un parco eolico offshore con 36 aerogeneratori a potenza pari a 108 MW davanti alle coste di Brindisi, San Pietro e Torchiaroro, arriva una sentenza del Consiglio di Stato che rimanda al giudice ordinario di legittimità la decisione sulla possibilità di installare l'impianto. Adesso il meteo e poi al rientro vi faremo vedere come è andata a Oria nello storico palio dei Rioni. A dopo. Riprendiamo il nostro telegiornale in diretta del mattino con uno degli appuntamenti più significativi storici dell'estate pugliese, il torneo dei Rioni di Oria, 57esima edizione, è stata vinta dalla San Basilio che dopo una testa a testa con i campioni in carica dell'Ama torna ad alzare il palio dopo averlo visto sfumare per un soffio. Lo scorso anno ci spiega tutto, è meglio Alessandro Zanzico. Con un anno di colpevole ritardo il rione San Basilio torna a sollevare il palio di Oria aggiudicandosi la 57esima edizione del torneo dei Rioni dopo un duello serrato con gli atleti del rione Lama. Un confronto prevalentemente a due, quello che ha visto protagonisti gialloverdi e gialloneri contendersi il primato fino all'ultima gara, vinta in rimonta per l'appunto del San Basilio che torna dunque ad esultare superando proprio i campioni in carica del Lama grazie ad uno stacco di tre punti nella graduatoria finale. E' stato un testa a testa emozionante, complimenti al rione Lama, però quest'anno c'erano tutte le condizioni, noi in Pescara Manzia non lo abbiamo voluto dire, abbiamo sofferto dopo un palio buttato al vento l'anno scorso, loro lo sanno, non lo diranno mai ma lo sanno perché è così e quest'anno dopo un anno di sacrificio, di lavoro duro, i ragazzi sono messi in impegno, hanno ottenuto finalmente quell'ambito palio che ci sta portando tanta gioia. Un'edizione del palio di Oria che anche quest'anno ha attirato grandissimi consensi oltre che una notevolissima affluenza turistica, tante le novità che il presidente della Proloco Francesco Biasi continua a mistare nel ricco palinsesto del secondo fine settimana di agosto ma quest'anno a spiccare su tutto è stato il mini torneo dei Rioni con in campo atleti di età compresa tra i 10 e i 14 anni a vincere il primo Puerapuglia in assoluto i baby atleti del rione Lama. Io mi sono emozionato come penso i genitori ma anche gli allenatori, i rioni stessi e il pubblico ho visto proprio la reazione, è stata una bellissima esperienza, i ragazzi hanno esordito per la prima volta nella loro gara, faccio complimenti a entrambi i rioni ma anche a tutti gli altri rioni per aver mantenuto la calma anche in alcune fasi molto concitate, ringrazio il pubblico numeroso e grazie a tutti, grazie davvero. E adesso torniamo ad occuparci della tragedia di Cisternino, vi abbiamo raccontato la crona che in apertura di questo Tg del mattino in diretta siamo tornati questa mattina sul posto per capire come stanno le cose, a che punto è l'inchiesta e ovviamente i soccorritori sono ancora sul posto, intanto ci colleghiamo in diretta da Cisternino con Trada Caranna con il nostro Ottavio Cristofaro. Buongiorno Ottavio, a te la linea se mi ascolti. Buongiorno direttore, noi questa mattina siamo tornati qui a Cisternino, in particolare siamo alla periferia del centro urbano in località Caranna, nel posto dove nella giornata di ieri si è registrata questa terribile tragedia che ha visto come vittima un uomo di 55 anni, l'ingegnere Dile Nicola Salatino che ha perso la vita a seguito dell'esplosione dovuta una probabile fuga di gas GPL da una bombola apposta all'esterno di un edificio tipico di questo territorio, siamo in piena Valeditri, un edificio misto a trulli e a lamie, tra l'altro secondo quanto ci viene riferito da alcune fonti un edificio che una costruzione che era fresca di ristrutturazione, l'uomo che ha perso la vita era in vacanza qui in questi giorni assieme a sua moglie, anch'essa coinvolta nell'esplosione, ma per lei le condizioni sono stazionarie perché la donna al momento dell'esplosione si trovava soltanto in prossimità del luogo dove c'è stato l'innesco, per lei si sono registrati gravi ferite, in particolar modo ustioni su oltre il 50% del corpo, motivo per il quale la donna già subito dopo i soccorsi nella giornata di ieri è stata immediatamente trasportata al reparto grandi ustionati dell'ospedale Perrino di Brindisi, nella giornata di ieri sono state necessarie oltre tre ore per recuperare il corpo esanime della vittima, dell'uomo che si trovava al di sotto delle macerie perché il trullo in particolar modo è venuto giù a seguito dell'esplosione, nella giornata di oggi sono previsti ulteriori accertamenti per cercare di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ci saranno degli accertamenti tecnici proprio lì sul posto, noi cercheremo di seguire ulteriormente questa terribile vicenda che ha riguardato questa piccola comunità qui in piena Valeditra, lo faremo nel corso delle prossime edizioni del nostro telegiornale, per il momento qui da Cisternino e da Caranna è tutto, a voi la linea studio. Grazie, grazie a Ottavio Cristoforo, ovviamente poi vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali ma anche sul sito www.antenasud.com gli sviluppi il giorno dopo, del giorno dopo alla tragedia. Andiamo, restiamo a Brindisi, andiamo in città, Via del mare e Viale, Domenico Menniti, cerimonia di intitolazione all'ex sindaco della città sulla strada del suo progetto di rigenerazione, ovvero il waterfront, presenti la moglie, i figli ed altri parenti insieme agli esponenti della politica, la delibera è stata votata all'unanimità e in questa foto vediamo un momento della cerimonia che si è svolta nel pomeriggio di ieri e a tal proposito vediamo il servizio di Fabrizio Caglianiello. Lo sguardo commosso della moglie Marisa, l'emozione dei figli Barbara e Pierluigi, l'abbraccio di un'intera città, da oggi Via del mare e Viale, Domenico Menniti, una cerimonia sobria ed elegante moderata dal collega Antonio Celeste, non una strada qualsiasi ma quella che più di ogni altra rappresenta il progetto di waterfront dell'ex sindaco ed europarlamentare. L'ordine del giorno che fu presentato per l'intitolazione di questa via all'onorevole Menniti è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale senza distinzioni di parti, di contrapposizioni e poi ovviamente tutto l'iter burocratico che prevede il passaggio dalla Prefettura, dalla sommigenza delle belle arti eccetera, ha fatto sì che arrivassimo in piena estate. A questo punto abbiamo deciso che era una cosa assolutamente opportuna quella di farlo nel giorno in cui il compianto sindaco Menniti avrebbe compiuto 85 anni. Questa è una città che dà le spalle al mare, sbottò Menniti nel giorno del suo insediamento facendo partire così il processo di riqualificazione. Sì, noi siamo molto felici, soprattutto sono sicura che sarebbe molto molto felice lui. Sì, lui credeva che Brindisi avesse il suo destino, la sua proiezione nel mare e quindi è bellissimo che sia questa strada che guarda verso il mare e che ricordiamoci prima non guardava verso il mare perché il mare non si vedeva in questa strada. Una scelta condivisa da tutta la città, quella di intitolare questa strada a Domenico Menniti, una scelta condivisa soprattutto da tutta la politica. Era un pensiero che oltre dieci anni, perché questa idea fu lanciata immediatamente dopo la scomparsa di uno dovevo Menniti ed era una cosa che lanciai e che la città aveva già risposto in maniera positiva. Un'iniziativa promossa dal consigliere Roberto Quarta che ha avuto un consenso trasversale unendo per la prima volta destra e sinistra perché, come diceva Menniti, chi è eletto deve capire, se non ne capisce sono guai, che non è più un uomo di parte, è un uomo di istituzione. E adesso la strettissima attualità, lo dicevamo anche in apertura del nostro DG, oggi inizia la fatidica settimana di Ferragosto. Nel weekend appena trascorso c'è stato il bollino nero per gli spostamenti, per il traffico intensissimo su tutta la rete autostradale nazionale, ma non solo, soprattutto le coste prese d'assalto. Vediamo qualche titolo, vacanze d'agosto, ora la Puglia è sold out, destagionalizzazione, primi segnali positivi. Questo è quanto scrive il quotidiano di Puglia a pagina 2. Operatori soddisfatti della ripresa dopo il calo registrato a luglio. Bene il turismo dall'estero, lieve flessione per quello italiano che risente del basso potere d'acquisto, un dato che spinge a scegliere la bassa stagione, da qui l'input a ridisegnare il comparto per ampliare l'offerta. Vediamo anche quello che riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, se l'estate porta consiglio. I consiglieri regionali preferiscono restare a casa, vacanze domestiche per tutti, dal Gargano al Salento. Il giornale diretto da Mimo Mazza ha ascoltato vari consiglieri regionali. L'estate porterà consiglio con queste parole qualche giorno fa. La Presidente Loredana Capone, che vediamo in questa foto, aveva commentato il flop dell'ultima seduta in via Gentile, quella sul documento di economia e finanza della Regione Puglia e il referendum contro l'autonomia differenziata, prima della pausa di agosto. Estate dunque, tempo di relax e vacanze per qualcuno anche di lavoro, perché no, di riflessione. E a proposito di estate e di ferragosto, il ricordo di stati rugenti, una briscola al parco con gli amici, la spesa e una capatina al mare. E quindi vediamo, siamo andati a Bari, com'è trascorso questo weekend che porta al ferragosto e anche quello di chi resta in città e dunque si organizza come può. Antonio Bucci. Possiamo dire che questa è la spesa del ferragosto? Quale ferragosto? How do you say buon ferragosto? The Cope d'Augustos. E' il weekend del ferragosto, quello nel quale la città tradizionalmente si svuota, ma non del tutto è anche quello di chi resta e si prepara. Vediamo. Torneo di ferragosto, come sta andando? Male, non ce ne sta, non so. A ferragosto si passa al giardino, niente mare. No, ognuno pensa per famiglia di sfoglio, se ne riusciamo fuori. Che stiamo a fare qua? Noi abbiamo lui la mascotta nostra. Sono delle partite che si disputano quasi tutti i giorni, tra amici. Chi sta vincendo? Abbiamo vinto noi. Stiamo qua al giardino, è lo stesso come andare a marciare l'amico, ci facciamo la partita. Abbiamo trovato la critica a Parigi, per fare le Olimpiade. E' un giardino più buono, che devo fare. I topi, così. La cosa più sporcacciata che ho visto, è proprio la mondia. Che si devo fare? Che mi sento noioso stare senza fare niente. Ho lavorato, facevo il camionista e stavo bene. Adesso mi sento morto. Stiamo bene qua, parliamo del più e del meno. Un ferragosto dal quale si ricorda? Degli anni 60. Che ha fatto? E' ribini. Era l'idolo delle donne. E' scappolo, era scappolone. Ed è rimasto scappolone. Non fare gli auguri di Bonferagosto, a chi resta? Eh. E adesso ci spostiamo sulla costa ionica orientale, quella a est del capologo ionico di Taranto. Andiamo alla Marina di Manduria, precisamente al fiume Chidro. C'è un edificio che viene definito un ecomostro, che doveva essere abbattuto un anno fa, ma è ancora lì. Adesso si rischierebbe di perdere i finanziamenti per ripristinare e bonificare quella zona. Sentiamo il servizio di Marzia Baldari. Siamo a San Pietro in Bevagna, Marina di Manduria. E questo è l'ecomostro, il dissallatore in disuso realizzato negli anni 70 dall'Arneo, per usi irrigui, ma mai entrato in funzione. Una grossa opera in cemento, situata in un'area protetta, confinante, con le riserve naturali del litorale ionico tarantino, che doveva essere abbattuta. Ma eccola ancora lì, di fronte, la riserva naturale del fiume Chidro. Costata 250 miliardi di vecchie lire, l'ecomostro è stato in questi 40 anni vandalizzato. È usato in passato come trampolino per tuffi, che vide anche la morte di un quattordicenne. Un tragico evento che portò alla messa in sicurezza dell'area. Tre anni fa il comune di Manduria annunciò il finanziamento per l'abbattimento della struttura, presentando anche un progetto di risanamento dell'area. I lavori sarebbero dovuti iniziare a ottobre del 2023, ma l'ecomostro non solo non è stato abbattuto, ma si rischia di perdere i finanziamenti. Un milione e 300 mila euro. Il comune di Manduria non ha ottenuto ancora il nulla osta della struttura in disuso dal proprietario Arneo. C'è tempo sino al 30 settembre per indire la gara europea e assegnare i lavori. I fondi altrimenti andranno perduti. Adesso parliamo di siccità, l'allarme siccità che sta preoccupando non solo gli agricoltori, sia di Puglia che di Basilicata. Pronti 9 milioni per ricollegare le dighe di Acerenza e Genzano. Questo è un titolo che troviamo oggi sull'edicola a pagina 6. I lavori consegnati d'urgenza dalla commissaria dell'autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale della Lucania, Vera Corbelli. Nel frattempo gli invasi della Basilicata continuano a calare il livello d'acqua. Negli invasi di Basilicata continua a calare il livello d'acqua presente. Specie in quello di Monte Cotugno, consegnati in via d'urgenza i lavori per il ripristino del collegamento idrico, scrive Flavia Di Maio, tra la diga di Acerenza e quella di Genzano, di Lucania, per un importo complessivo di 9 milioni di euro. Lo ha disposto la commissaria straordinaria Vera Corbelli. Quest'opera sarà il primo intervento per riconnettere fisicamente i due invasi e completare lo schema idrico-basento-bradano. Dunque, questa è la situazione. Si tratta, vedete, nel sommario di un impianto di vitale importanza per l'agricoltura lucana, ma di conseguenza anche quella pugliese. Intanto, come abbiamo riferito nel corso dei nostri Tg, il Consiglio regionale pugliese, per quel che riguarda il dramma, l'allarme e siccità che si sta vivendo ormai in maniera imponente anche in Puglia, c'è in programma un Consiglio regionale che per ora ufficialmente non è stato ancora convocato. Andiamo nell'Assalento, a San Benedetto, a Merine, l'altare maggiore, riassemblato della chiesa di Santa Maria delle Grazie, proveniente dalla chiesa di Santa Maria del Tempio, demolita a Lecce. L'altare fu smembrato e ricollocato lontano dal presbiterio. Benedetto anche il nuovo abito della statua della Vergine Assunta in cielo. Vediamo il servizio di Lori Larva. Una serata rimasta nel libro della storia, quella vissuta dalla comunità di Merine, che finalmente, dopo tanti anni di attesa, può tornare ad ammirare l'antico altare barocco ritornato all'antico splendore nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Ricomposto con assemblamento di elementi sparsi e dispersi, recuperati grazie all'interessamento e la custodia preventiva dei vecchi parroci, La sua collocazione originaria, infatti, non era quella, ma gli eventi storici hanno voluto che il sontuoso apparato lapideo del 1877 fosse traslato dalla cappella del convento francescano di Santa Maria del Tempio in Lecce, nell'edificio sacro di Merine appena inaugurato. Nel 1877 fu collocato questo altare, che non era stato pensato per questa chiesa, difatti era molto più antico. Si trovava nella chiesa di Santa Maria al Tempio, dove c'era la caserma massa. Il parroco di allora, Don Giuseppe Pinna, chiese che questo altare potesse essere portato qui a Merine per abbellire la chiesa che lui stesso aveva da poco costruita. Con il concilio Vaticano II e la riforma liturgica, l'altare fu notevolmente ridimensionato e collocato poi nella parte più lontana del presbiterio. Alla benedizione dell'altare ha fatto da contraltare la benedizione del nuovo abito con il quale sarà rivestita la statua della Beata Vergine Assunta in Cielo in occasione della festa patronale. L'abito di raffinata fattura, cucito e ricamato a mano dalle suore Giuseppine di Roma, è stato donato per devozione da Andrea Marchello, suscitando la gratitudine immensa del parroco e della comunità di Merine. Vuol dire che i segni di devozione della comunità formata culturalmente, spiritualmente e aggiornata secondo i valori anche del concilio e della chiesa, dal parroco continua a mostrare la propria maturità e la propria volontà di crescere rendendosi coralmente partecipe di questi momenti. Andiamo a Taranto adesso perché è stata presentata a Palazzo di Città l'edizione 2024 del Medita Festival. Quest'anno una nuova originale location, ovvero l'oasi dei battendieri, che è ubicata proprio sulla suggestiva Circu Mar Piccolo, ovvero a ridosso del secondo seno del Mar Piccolo, ha seguito la conferenza stampa per Antenna Sud. Laura Milano. Assessore, il Medita diventa ormai un evento quasi identitario per la città. Sì, siamo giunti alla quinta edizione. Come sappiamo è un festival fortemente sostenuto e desiderato dall'amministrazione comunale, in particolare dal sindaco. Quest'anno le date del Medita saranno 6, 7 e 8 settembre. 6, 7 ed 8 settembre. Date da appuntare in agenda perché a Taranto sono i giorni dedicati all'edizione 2024 della Medita Festival, orchestra della Magna Grecia. Dalla rotonda del lungomare il Medita si sposta all'oasi dei battendieri. Grandi nomi per questa edizione. Gli ospiti di quest'anno sono ospiti eccezionali della musica italiana. Avremo Ron, Arisa e poi ci sarà la data gratuita dell'8 settembre che sveglieremo i dettagli in conferenza stampa. Non si conoscono ancora i nomi in programma per l'8 settembre, ma il maestro Piero Romano assicura una grande festa aperta a tutti. Abbiamo voluto dare una rilettura, una rilettura di natura, in chiave europea. Una sorta di slow event, qualcosa che possa dare la possibilità al pubblico di vivere il villaggio, di vivere il luogo e naturalmente di divertirsi la sera arrivando poi a regimi di allegria estremamente elevati. E così il Medita Festival 2024 passa dalla rotonda del lungomare all'oasi dei battendieri, un'oasi veramente di bellezza, di natura, di relax. E quindi torniamo a parlare dell'esodo della settimana di Ferragosto. Andiamo sul quotidiano per vedere questo titolo a pagina 3. Corsa verso città d'arte e litorale, Ferragosto di traffico e ingorghi, bollino nero e rosso lungo le principali arterie della regione Puglia che sconta la carenza di mezzi pubblici. Incidenti e cantieri rallentano il viaggio di turisti e pendolari, disagi evitabili con i treni. Le previsioni di ANAS per i prossimi giorni e i consigli utili per evitare di restare bloccati. Vedete poi questa intervista all'assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, offerta diversificata e annuale. Questa è la strada da seguire, la Puglia si conferma dunque meta preferita di turisti dall'Italia e dall'estero. I numeri, dice Lopane, ci danno ragione e circa il 40% degli arrivi riguarda periodi non estivi, stiamo crescendo e dunque adesso come da tempo si dice, la Puglia punta anche alla cosiddetta destagionalizzazione del turismo e i numeri danno ragione alle strategie della regione Puglia. Andiamo sull'edicola perché c'è una segnalazione di inciviltà che giunge dalla BAT San Lorenzo a Trani, i rifiuti fanno dimenticare le stelle cadenti, la situazione della seconda spiaggia di Trani in zona Matinelle all'indomani della notte di San Lorenzo, rifiuti e cumuli di immondizia ovunque. Andiamo più sopra per vedere quest'altra notizia che riguarda Monsignor Renna, un malore operato per infarto, ora sta bene, l'alto prelato nato a Corato era stato ricoverato nella notte tra sabato e domenica, ora in fase di recupero, ma la sua prognosi rimane riservata dopo l'intervento, gli siamo vicini con preghiere e amicizie, quanto ha affermato Monsignor Baturi della conferenza episcopale. Vedete, pagina 4, Gazzetta del Mezzogiorno, l'Italia va in ferie e i treni rallentano, disagi necessari per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale, lo spiega l'esperto Antonio Ficarella, il direttore del Dipartimento di Ingegneria e Innovazione dell'Università del Salento e coordinatore del Centro di Ricerca per la Sicurezza e Resilienza delle Infrastrutture Critiche. Qual è la situazione dei trasporti dal Salento al Nord? In questi giorni i convogli a lunga percorrenza di Trenitalia saranno interessati da modifiche alla circolazione, si migliora la qualità del servizio e quanto afferma Ficarella. Esiste un problema di mancata comprensione della realtà tecnologica e scientifica della nostra società e della nostra vita. Vediamo adesso un servizio che ci porta a Carmiano. Dall'11 fino al 13 agosto si svolgeranno i festeggiamenti della Madonna Nostra nella Salento, appunto nella città di Carmiano e il programma di questo evento è davvero ricco. Sentiamo nei dettagli il servizio di Pierandrea Fanigliuro. Un senso di comunità tangibile il cui abbraccio parte da un gruppo di amici per estendersi poi a tutto il paese. La festa Madonna Nostra si svolgerà da domenica 11 fino a martedì 13 agosto proponendo oltre ai riti religiosi spettacoli ed eventi vari consentendo così a Carmiano di tornare agli antichi fasti. Un grandissimo lavoro in onore di una delle immagini più importanti della cristianità. La Madonna Nostra anche per quest'anno abbiamo il grande piacere, il grande onore di organizzare questo evento, un insieme di riti religiosi e riti civili. Naturalmente è molto importante la cornice, che è quella delle tradizioni, di ciò che rappresenta questa bellissima immagine sacra, la Madonna Nostra, per una comunità che in questi tre giorni deve essere tutta partecipe. È bello vedere tanta partecipazione perché siamo tutti coinvolti in questa bellissima festa. Noi siamo un gruppo di amici che è stato formato l'anno scorso, però quest'anno per ampliare la nostra grande festa abbiamo inserito anche il centro storico per fare qualcosa di bello per tutta la comunità. Forse non si respirava da tanto questo clima. Che bella questa domanda. Non si respirava da tanto? Sì, è vero, perché questa bellissima festa non veniva realizzata da 15 anni. E noi l'anno scorso, come ha detto anche il Vicepresidente, ci siamo riuniti, ci siamo ritrovati con forza e determinazione perché volevamo riportare in auge una tradizione che era stata un po' dimenticata. Ed eccoci di nuovo alla lettura dei quotidiani per vedere quali sono le notizie che si stanno alternando sulla cronaca in questi giorni e tra queste sicuramente quella dello sfruttamento nei campi, soprattutto in agricoltura. Vedete questo titolo della Gazzetta del Mezzogiorno. Noi sfruttati nei campi sotto il sole a pochi chilometri da chi è in vacanza. La Gazzetta del Mezzogiorno parla dei braccianti. C'è l'amara testimonianza di Fouad impegnato nella raccolta in Capitanata. Ovviamente un nome di fantasia, Fouad, che racconta nel tavoliere di Puglia lavorare nei campi purtroppo è ancora un gioco a caro prezzo con la morte. Si parla tanto di tutele, ma che cosa cambia davvero? La temperatura sfiora quasi costantemente 40 gradi, i controlli spesso carenti nei fatti mettono a rischio la nostra vita per 4 euro ogni due quintali di pomodori. Eppure la maglia nera per il caporalato quest'anno va alla Calabria e alla Sicilia, ma nonostante questo i racconti diretti dalla Puglia ci sconvolgono. Un bel reportage da parte della Gazzetta del Mezzogiorno su questa vicenda che purtroppo resta immutata nonostante la stampa ne parli. I nostri telegiornali abbiano affrontato spessissimo questo argomento. Però il problemaccio del caporalato resta purtroppo ancora vivo e questa testimonianza di questo agricoltore che opera in Capitanata ne è una dimostrazione. Abbiamo parlato in apertura alle 7 del nostro DG della presenza in Puglia della premia Giorgia Meloni che è iniziata nello scorso weekend e che andrà avanti per una settimana, forse 10 giorni, prima a Borgo e Ignazia, Savelle e Trifasano dove si è tenuto il G7 il 15 giugno scorso e poi a Ceglie Messapica in una bellissima e accogliente masseria. Intanto adesso noi andiamo a Ceglie Messapica, vediamo c'è Michele Iurlaro che è andato già ad indacare per vedere se riesce a beccare la premier Meloni che è in Puglia, quindi sceglie ancora la Puglia per trascorrere le sue vacanze. Allora Michele, dove sei esattamente? Buongiorno, buon lunedì a te Michele, buongiorno, raccontaci un po', hai visto la Meloni? Buongiorno direttore, noi siamo proprio qui davanti ai cancelli di masseria beneficio tra le campagne, tra gli ulivi secolari dell'agro di Ceglie Messapica in provincia di Brindisi, bene, secondo le nostre fonti la premier Giorgia Meloni sarebbe arrivata in masseria proprio all'alba di questa mattina dopo aver trascorso la notte nel resort di Borgo Egnazia. Borgo Egnazia che, lo ricordiamo, era stato il teatro prediletto, prescelto del G7 tenutosi in Puglia lo scorso giugno, da lì appunto la premier è poi arrivata a Ceglie Messapica per trascorrere le sue vacanze estive. In compagnia della premier anche la sorella Rianna, il cognato, il ministro Lollo Brigida, ma anche l'ex compagno Gian Bruno. La coppia si è riunita per questi giorni di vacanze, proprio per trascorrere il tempo con la loro figlioletta Ginevra. Chiaramente non passeremo i prossimi giorni a presidiare masseria beneficio, sarebbe antipatico. È giusto che la premier, anche la premier, soprattutto la premier Giorgia Meloni possa godersi qualche giorno di meritata vacanza. Qui tra le campagne del Salento, della Puglia, della Valle d'Itria. E allora Gianni, se non ci sono particolari domande, io ti restituisco la linea qui da Masseria Beneficio. Ceglie Messapica. Va bene così, va bene così. Grazie a Michele Iurlaro che abbiamo sguinzagliato in quel di Ceglie per tentare di dare qualche notizia in più. Assolutamente, nessun gossip. Però, insomma, il presidente del Consiglio che è in Puglia, in provincia di Brindisi, a Ceglie Messapica, fa notizia e noi dobbiamo fare notizia. Intanto vedete il titolo d'apertura del quotidiano in tutte le sue edizioni di quest'oggi. Vedete in apertura, il quotidiano di Puglia riporta questa notizia. Meloni torna a Borgo Ignazia, weekend blindato. Poi Ceglie da sabato nel resort del G7, da oggi in Masseria, Giorgia Meloni è in Puglia. C'è stata la cena ieri a Borgo Ignazia, a Fasano, la question del G7 con la presidenza italiana, ma la premier sarebbe arrivata già da sabato. Queste sono indiscrezioni perché è giunta in Puglia in maniera top secret e da oggi dovrebbe trasferirsi con la figlia Ginevra e con la coppia composta dalla sorella Arianna e da suo cognato, il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, a Ceglie Messapica, proprio nella Masseria dove abbiamo visto poc'anzi in diretta Michele Iurlaro. Dunque, le vacanze pugliesi della premier e la regione presa d'assalto da visitatori. Quindi Puglia che si conferma metaturistica. Tutta la Puglia, dal Gargano all'assalto e adesso anche prende sempre più corpo l'ipotesi vacanze in Valle d'Itria, in questa suggestiva cornice delle colline della Valle d'Itria. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo il nostro telegiornale sportivo del mattino, poi subito dopo la rassegna stampa sport e poi gli altri servizi, gli approfondimenti del nostro telegiornale in diretta di questo lunedì 12 agosto con la collaborazione preziosissima di Sebastiano Bufalo. Grazie a tutti.